Comunque io secondo me l'avevo messo in po' troppo guasto, vero? Come? Po' troppo guasto lo metto Che è? Leve? E ognuno come vi do a guidare A me queste Lo sbassate in po' troppo Non deve essere desacerato in discesa o in salita Io ho trovato la via di mezzo cucino Buona pa' salita e buona pa' di salita Infatti io ho bisogno Vabbè qua ci sta Qua è stretto pure Poi ci sta un gradino che va giù Ci sta una curvetta ma non è niente di che Vediamo il sistema meglio Bele 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 bella bella Grazie a tutti. 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 Grazie a tutti.